La storia di Mike Colle, 69 anni, originario di San Marco in Lamis, provincia di Foggia, è quella di tanti emigrati che hanno fatto fortuna in Canada, per la precisione a Toronto. Arrivato nel 1950 in nave, assieme alla famiglia e quindi laureatosi alla Carleton University, è stato dapprima presidente della TTC, la Società dei Trasporti di Toronto, quindi da oltre 20 anni e protagonista della politica provinciale dell'Ontario, essendo stato rieletto per ben 5 volte nei propri distretti. Ma la Puglia a Colle non l'ha mai dimenticata. C'ho ancora una zia, c'ho cugini ancora in Puglia, sono sempre interessato alla Puglia, voglio sapere l'economia della Puglia, voglio sapere, per esempio, lo sappiamo che vino dalla Puglia, è una uva primitiva, è molto popolare qui in Ontario, è il turismo che va alla Puglia. E c'è un'altra caratteristica che lega Toronto al meridione d'Italia, come spiega lo stesso Colle. Facciamo più salsa per pomodoro qui in Toronto, contro tutte le città di Nord America intere, che mette Chicago, New York, Boston. I pomodoro sono fatti da italiani qui, sono gli italo-canadesi che sono venuti qua anni fa a Leamington. E' una tradizione a agosto, a settembre, di fare questa salsa genuina di pomodoro al tipo italiano italiano.